bene 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 è un periodo di crisi che questa crisi no dato dal coronavirus dal covid 19 quindi la società in crisi lo dicevano questa canzone lo diceva 80 anni fa quindi noi ridecantiamo la crisi un inno alla crisi inno alla crisi questo periodo speriamo che poi passi molto bene molto bene si lamenta l'impresario che teatro più non va ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà la crisi ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi metta in scena un buon autore faccia agire un grande autore e vedrà che la crisi passerà brava 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 un rincone amaro e vecchio dice ahimè così non va vedo nero nello specchio chissà come finirà ah la crisi forse ha perso la vista proprio come noi si vede nero proprio come noi noi già non ci vedevamo prima il vecchietto invece l'ha persa con l'età con l'età deve essere no vediamo che consiglio gli da vediamo 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 ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi cavi fuori il portafogli metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà si lamenta nicodemo della crisi lui che va nel casino di sanremo a giocare al baccarà oh la crisi perdo sempre ho perso un'altra volta ho perso ho perso altri danari direi il bildanaro il bildanaro il bildanaro ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi lasci stare il gavazzare cerchi un po di lavorare e vedrà che la crisi finirà tutte quante le nazioni si lamentano così conferenze e riunioni ma si resta sempre lì la crisi lo spread il corona bond il mess il mepp il il fess si fess ma si proprio fess come dicono in Puglia si proprio fess ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi rinunciate all'opinione della parte del leone e chissà che la crisi finirà l'esercente è poveretto non sa più cosa fare e contempla quel cassetto che riempiva di danaro Oh, la crisi, signor, signor, signor. Ma cos'è questa crisi, paraparapapapapa, ma cos'è questa crisi? Sei contenti di guadagnare quel che è giusto e non grattare, chissà, paraparapapapapa, e la crisi finirà, paraparapapapapa, paraparapapapa, e mua arriviamo anche noi, eh? E persin la donna bella alla crisi si intonò, e per far la linea snella di giurando sospirò. Oh, la crisi! Ma cos'è questa crisi, paraparapapapapa, ma cos'è questa crisi? Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le notate, e vedrà, paraparapapapapa, paraparapapapa, e la crisi passerà, paraparapapapa, paraparapapa, paraparapapa, Ma cos'è questa crisi, ma cos'è questa crisi? Chi c'è l'alimenta fuori circolare, mie signori, e chissà, che la crisi finirà, paraparapapa, 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 Siete ancora in crisi dopo questa, eh? Speriamo di no. Speriamo di no.